Salve! Stasera parliamo del numero 37. 37 è un numero primo, vuol dire che è divisibile solo per se stesso e per 1. Proviamo a moltiplicare 37 per tutta la tabellina del 3. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e 27. Otterremo come risultato 37 per 3 sarà 111, 37 per 6, 222 e poi 333, 444, 555, 666, 777, 888 e 999. Quindi già questo è abbastanza curioso. Se poi aggiungiamo che sommando le cifre interne di ciascuno di questi risultati, 111, 222, 333 e così via, otterremo comunque come risultato una sequenza di 3, 6 e 9, la cosa si fa ancora più interessante e in qualche maniera affascinante. Ci vediamo la settimana prossima, per questa volta è tutto. Buona serata!